Ciao a tutti ragazzi, vi voglio rispondere con un video alla domanda che mi state facendo più frequentemente Perché non fai più i video come gli anni passati? La risposta è semplice, ho cambiato lavoro e non posso prendere più 15 giorni di ferie per seguire la corsa Purtroppo sono da solo e gli anni scorsi per fare quei video che tanto vi sono piaciuti dovevo svegliarmi alle 7 della mattina fino alle 2 di notte quando mio fratello mi mandava i video dal di là e essendo da solo non riesco perché devo andare a lavorare Domani dovrei riuscire a fare qualcosa di un po' di più di quello che vi sto facendo vedere adesso Infatti sono venuto su a rimettere un po' in ordine diciamo lo studio e quest'anno è difficile anche per le immagini Dakar mi sta colfiato sul collo e qualunque cosa esca è sottoposta a controlli Anche oggi mi hanno bloccato due video e è veramente difficile Comunque domani vedrò di fare qualcosa di un po' più decente La tappa di oggi è stato un delirio bloccata al Waypoint 3 per un diluvio universale Infatti il terreno era impraticabile ma questo tra le moto non ha impedito a Brebeck di cadere Per curarsi una lesione al collo il pilota statunitense è stato elitrasportato e addio sogni di gloria per lui Vince tra le moto Sanders su Gas Gas che allunga anche sulla generale Mentre tra le auto il campione in carica alla TA chiude in quinta posizione Malissimo Lerb che dopo aver perso nella tappa di ieri oltre un'ora e venti Oggi ne perde altre venti minuti La sua BRX non ha retto Ma quest'anno devo dire che le Hunter sono un po' meno in forma rispetto all'anno scorso Tutti i piloti BRX hanno avuto praticamente tutti problemi diversi Male anche Sainz che al 220esimo chilometro circa mi pare Ha rotto la sospensione posteriore sinistra Ma queste rotture io credo che siano derivate dalla tappa di ieri che è stata disastrosa per le auto Veramente una tappa vecchio stile Spacca auto 100% pietre E' stata veramente dura Vola invece senza ancora nessun problemi Le Toyota Tra i camion invece oggi vince Macic Ma poco importa perché ieri ha perso veramente tanto Più di un'ora e venti E conduce su tutti il Praga di Lopre Anche lì secondo me quest'anno è una questione fatta Ma vediamo La Dakar è ancora lunga Il quarto vuoto ancora non l'abbiamo visto Non abbiamo visto il vero deserto Vediamo cosa ci metterà in servo quest'anno a Dakar Io ti do appuntamento a domani Spero di riuscire a fare un video decente Io ti ringrazio per tutto il tuo tempo Mi scuso per i video che sto facendo adesso Che non sono assolutamente vicini ai miei standard Di presentazione della Dakar E spero che qualcuno Che sia laggiù Faccia meglio ma non lo fa Quindi se mi stai guardando Qualcuno laggiù Qualche emittente Contattami La mele qui di sotto Almeno mi mandi a me E facciamo dei video Un po' decenti Grazie di tutto E noi ci vediamo Domani